bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e oggi ragazzi sono qua su rules of survival nella nuova mappa ragazzi mamma mia quella che presto anche noi avremo la possibilità di giocare ragazzi abbiamo visto che la mappa è una cosa incredibile è una cosa enorme ragazzi dicono addirittura sei volte più grande di quella attuale che siamo abituati a vedere non so se avete visto tutti il video di ieri ragazzi so che in tanti avete visto il video che ho pubblicato questo pomeriggio ma in questo video specialissimo che sto mandando su per voi voglio farvi vedere un pochettino questa meraviglia ragazzi guardatelo guardatelo super super l'overcraft ragazzi il nuovo veicolo che verrà introdotto con l'aggiornamento di rules of survival insieme ad altri veicoli che abbiamo già visto ma che andremo a parlare più avanti come vedete un posto solo sembrerebbe vista così no forse sì un posto solo sembra di vedere no ne ha due ne ha addirittura no no ne ha di più ne ha di più ne ha di più ragazzi ci ha fatto vedere che si è seduto anche di fianco e guardate ragazzi meraviglioso con due elicozze giga dietro l'overcraft vi ricordo che oltre ad andare sulla terra come stiamo vedendo adesso può anche andare sull'acqua quindi ragazzi vi lascio solo immaginare quanto divertimento c'è una moto baggata quanto divertimento si può creare con un veicolo che va sia sulla terra che sull'acqua meraviglioso a parer mio uno delle uno degli aggiornamenti più interessanti quello che vedremo il 31 attenzione andiamo a investire un tipo intanto ragazzi di prepotenza guardate come si guida bene guardate come si guida bene ragazzi meraviglioso meraviglioso andiamo a curarci andiamo a curarci già che ci siamo a parte che noi siamo bellissimi visti così con la tuta mimetica e con il nostro super overcraft ma vi stavo dicendo uno degli aggiornamenti più interessanti quello che sta per arrivare di rules of survival come vedete con questo overcraft ragazzi noi abbiamo la possibilità tranquillamente di andarcene in giro per la mappa insieme ai nostri compagni di esplorarla e ci servirà assolutamente ragazzi avere dei veicoli perché ci saranno un sacco di posti dove potremo andare a cercare degli oggetti per il nostro personaggio nella nuova mappa tra l'altro ragazzi non so se l'avete letto da qualche parte o se ancora non lo sapete ma c'erano delle voci che praticamente parlavano riguardo l'rpg ok il lanciarazzi quello che verrà introdotto insieme alle nuove armi non è solo esclusivo dell'air drop potremmo possiamo ragazzi trovare anche il nostro lanciarazzi nelle case nelle case normalmente dove ci sono i posti questo era proprio per smentire un pochettino quello che era stato detto quello che si vociferava un pochettino in questi giorni come vi stavo dicendo ragazzi a parte meravigliosa anche la mimetica ma questo overcraft oltre a poter portare la gente e ad andare sulla terra e sull'acqua ragazzi è davvero interessante anche perché ci sono dei punti di spawn nella nuova mappa anche al di fuori dall'isola attenzione non so se avete guardato ma l'isola è collegata anche ad una piccola isola un pochettino più piccolina che al suo interno contiene delle case contiene dei posti dove poter trovare la roba e sebbene sia collegata anche con i ponti sicuramente con l'overcraft arrivarci è molto molto più figo stiamo vedendo proprio adesso ragazzi che scendendo direttamente col paracaduto in questa nuovissima zona della mappa guardate che meraviglia con tanto di ombrelloni abbiamo l'overcraft devo subito investirne un altro così cattivo ce n'è un altro ce n'è un altro oh mio dio oh mio dio ragazzi di prepotenza così di prepotenza così ragazzi overcraft OP ragazzi bellissimo bellissimo abbiamo visto anche che tra gli altri veicoli ragazzi avremo disponibile il deltaplano no il deltaplano il come si chiama il monomotore no quello che vola praticamente che non è un aeroplano è tipo un deltaplano a motore ecco chiamiamolo così il camion blindato oh e se non ricordo male ce n'erano quattro e il trattore e il trattore ragazzi non abbiamo ancora momentaneamente dei video sugli altri tre veicoli ma questo dell'overcraft io non potevo non farvelo vedere un pochettino in anteprima commentarlo con voi guardate ragazzi guardate guardate sulla barca la gente guardate che roba e non so se avete notato ma guardate il numero di giocatori ragazzi guardate il numero di player nella mappa segnava 300 segnava 300 oh mio dio super cattivo come aggiornamento hanno aumentato nuovamente il numero di giocatori disponibili contemporaneamente da 120 come siamo abituati a vederli fino adesso fino a 300 qua stiamo notando un bellissimo trick con l'overcraft attenzione si butta la gente noi andiamo di prepotenza andiamo di prepotenza attenzione i bug attenzione i bug e lo andiamo a investire anche questo io prenderei l'overcraft solamente per killare la gente così ragazzi guarda ce n'è un altro sopra ce n'è un altro sopra la barca adesso si butta giù vediamo se si butta sta sparando all'overcraft l'infame noi siamo dietro noi siamo dietro nascosti dalle eliche ma se questo si butta giù lo andiamo a killare di grande prepotenza altrimenti ragazzi la finiamo qua la peggio la cosa importante era farvi appunto vedere uno dei tre dei quattro nuovi veicoli vi ricordo sempre ragazzi però che se volete rimanere aggiornati con tutto quello che riguarda l'aggiornamento di rules of survival e tutti i futuri aggiornamenti oltre a seguire i miei video sul canale passate anche sulla pagina facebook rules of survival ita official beh ragazzi direi che per questo video oddio si è buttato aspetta che 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 si è buttato andiamola a prendere è apront beh ragazzi direi che per questo video è davvero tutto io vi ringrazio per averlo seguito scaricate un sacco di like se vi stanno piacendo questi video aggiornamenti e noi ci vediamo presto ciao ciao